Sono i conservatori e quindi quello che implicitamente la collega Mattia ci sta dicendo è quello che io ho tentato di spiegare nel mio intervento e cioè che storicamente è accaduto questo e cioè è accaduto che nella definizione dei top jobs, dei ruoli di vertici, si seguisse quella che era l'indicazione arrivata dai cittadini, quindi non ragionando sul meccanismo di una maggioranza che blindava tutto, ma partendo dai partiti, dai gruppi che erano maggiormente rappresentativi in ruoli apicali che rimangono tendenzialmente neutri rispetto al principio della maggioranza e dell'opposizione. La collega Mattia ci conferma che è stato così e ci conferma che oggi c'è un cambio di passo. Oggi si sceglie di fare un'altra cosa, si sceglie di stabilire che quel meccanismo diciamo che è frutto delle elezioni e dell'indicazione che arriva dai cittadini non va più bene, perché il terzo gruppo oggi è un gruppo che non piace a chi decide di fare questa scelta. Ma sono d'accordo sul fatto che la democrazia, colleghi del Partito Democratico, la democrazia sarebbe una cosa diversa, cioè sarebbe, come ci ha detto correttamente la collega Mattia, una scelta che rispecchia l'indicazione dei cittadini se quella scelta fosse stata diversa.